...a difesa della nostra nazione. Il fuoco è il simbolo di unione dei paracadutisti di oggi della Folgore con i paracadutisti di ieri. La fiaccola raggiungerà per terra e per mare il suolo patrio dove il 14 novembre nel corso di una soggettiva cerimonia presso lo Stato di Ascari posto nei pressi dell'entrata principale del Sacrario. Vengono ora resi gli onori presso il cimitero dei...